Cambiamo argomento, ci occupiamo di sanità per il servizio di logopedia dell'ospedale di Bolzano in vista a nuove sfide e cambio di strategie per affrontare l'aumento di richieste, di prestazioni, raggiungere obiettivi condivisi con i pazienti e sviluppare il progetto di ricerca sul plurilinguismo. Grazie a tutti. Annalisi di tutte le patologie logopediche, elaborazione ed introduzione del piano di terapia, ovvero una condivisione degli obiettivi da raggiungere tra logopedista e paziente. Ma tra le strategie messe in atto dal servizio, anche quella riguardante la realizzazione di opuscoli informativi. Le nostre sfide attuali sono che dobbiamo cambiare strategie, perché il numero delle terapiste è quello, invece le richieste sono sempre di più, anche dovuto a un cambiamento culturale, socio-culturale. Cambiamo strategie nel senso che collaboriamo più con le scuole, con gli assili, cerchiamo di produrre delle brochure, o li abbiamo già fatti in parte, per portare informazioni alle famiglie, a quelli che educano i bambini, perché è importante portare le conoscenze a domicilio, qui dove c'è la vita. Noi siamo non più quelli che trattiamo i bambini uno a uno per anni, però diamo i contenuti, diamo i consigli, però avviamo i bambini. E tra breve sarà disponibile anche un nuovo opuscolo dal titolo Indicazioni di base per favorire una corretta acquisizione plurilingue. Questa brochure ha lo scopo di aiutare i genitori ad attuare con i propri figli una corretta educazione plurilingue. Come spiegato da Isabella Ruta, coordinatrice del servizio, è stato realizzato uno screening su 840 bambini nati nel 2005, proprio per sviluppare questa tematica. È risultato che il 30% è plurilingue. Ma questo, è bene sottolinearlo, non causa disturbo di linguaggio. Per aumentare la possibilità di successo nell'acquisizione plurilingue è comunque necessario fornire al bambino un ambiente linguisticamente ricco, cioè con molte occasioni di contatto con le differenti lingue da acquisire. Imparare due o più lingue per il bambino è naturale. Lo sviluppo linguistico deve avvenire però in modo altrettanto naturale e non come una forzatura.